1-0 in favore del Castiglione, gol di Cristofoli in mezzo all'area che è grosso, la butta dentro, una gran punta di categoria però non escludo il risultatone, 1-1, gol di Magnini, quindi dico 1-x Castiglione-Castellana tra l'altro Castellana che se si piglia quel punto lì vale doppio perché ne ha tanto bisogno